Da Chateau Dax è arrivata la primavera zero stress, con rate che non si sono mai viste. A conto zero, interessi zero. Anche trasporto e montaggio sono a costo zero. E per azzerare completamente lo stress continuano gli sconti del 30, 50 e 70%. A marzo devi solo pensare a rilassarti e a goderti la tua nuova casa Chateau Dax. Grazie allo sconto del 50% puoi acquistare i mobili della cucina Chateau Dax a partire da 1560 euro, meno di 33 euro al mese. Da Chateau Dax il divano Clarissa è scontato del 50% e può essere tuo a partire da 894 euro, meno di 19 euro al mese. Ma è in camera da letto che con la primavera zero stress di Chateau Dax si allentano le ultime tensioni. Il letto Malta in tessuto completamente sfoderabile e con contenitore comodo, grazie allo sconto del 70%, può essere tuo a partire da 744 euro, meno di 16 euro al mese. Visto? Abbiamo pensato a tutto per farti rilassare. Sconti dal 30 al 70% e... Zero acconto, zero interessi, zero trasporto, zero montaggio. La tua nuova casa Chateau Dax a zero stress. Goditi la vita. Scegli Chateau Dax.